Ave Maria, bentrovati, buona domenica. Sono frate Stefano qui dal Convento della Santissima Annunciata. Oggi è il 24 gennaio. Ascoltiamo insieme il Vangelo del giorno Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen Dio onnipotente ed eterno, guida i nostri atti secondo la tua volontà, perché nel nome del tuo diletto Figlio portiamo frutti generosi di opere buone. Per Cristo nostro Signore. Amen Il Signore sia con voi Dal Vangelo secondo Marco Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea proclamando il Vangelo di Dio, e diceva «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo». Passando lungo il mare di Galilea vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare. Erano infatti pescatori. Gesù disse loro «Venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di uomini». E subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando un poco oltre vide Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, mentre anch'essi nella barca riparavano le reti. E subito li chiamò. Ed essi lasciarono il loro padre Zebedeo nella barca con i garzoni e andarono indietro a lui». Parola del Signore Lode a te o Cristo «Venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di uomini». La nostra missione, potremmo anche dire, il significato del nostro essere qui non è rispetto alle cose, ma rispetto alle persone. Essere pescatori di uomini aiutare le persone a non sprofondare nell'insensatezza della vita, ma dare un respiro più ampio, più grande, più profondo. Ti auguro di cuore una buona giornata Il Signore ti benedica Pace e bene Abbi cura di te